Il colpo messo a segno nei giorni scorsi presso la Yo Café di Via Platina non è rimasto purtroppo un caso isolato. L'altra notte un'analoga disavventura è capitata alla piadineria sotto i portici pochi metri più avanti. Il metodo è sempre lo stesso, i malviventi sono entrati facendosi largo tra le inferiate con un cric. Poi qualcuno di particolarmente magro, forse un minore, è entrato nel locale facendo razzia degli spiccioli trovati in cassa. Più ingenti i danni del bottino. Sul posto per i diglievi sono intervenuti i carabinieri di Cremona. Altri colpi fotocopio sono stati segnalati anche in Viale Po dove è stata ripredata una macelleria e anche altri locali. Non si esclude che la firma dei malviventi possa essere sempre la stessa.